Sono Antonio Ceraso e Pietro Violi, nuovi sindaci eletti rispettivamente a Cutro, nel Crotonese e a Sante Ophemia da Spromonte nel Regino. Questo è il risponso delle urne dopo il turno straordinario in cui sono stati chiamati a scegliere il loro primo cittadino, i territori di cui i consigli comunali erano stati sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata. A Cutro erano interessati al voto oltre 9.000 cittadini, a Sante Ophemia da Spromonte quasi 4.000. Antonio Ceraso, ex comandante della Polizia Locale di Crotone con la lista Gente per Cutro, era rimasto il solo candidato. Dopo l'esclusione dalle liste con a capo una l'ex consigliere regionale Francesco Sulla e l'altra con Antonio Della Rovere. Essendo stato superato il quorum del 40% nel grosso centro del Crotonese, Antonio Ceraso con 3.187 preferenze è il nuovo primo cittadino. Pietro Violi, a capo della lista civica Il Pese che Vogliamo, docente di educazione fisica in pensione, competeva a Sante Ophemia da Spromonte contro Francesco Antonio Papalia di Sante Ophemia Viva ed è stato scelto come sindaco da circa 1.300 suoi concittadini, con il 57% dei voti contro i 1.002, 43% dei voti del suo rivale. Grazie. Grazie a tutti.